Il Presidente della Repubblica l'ha definita una priorità sociale, la sicurezza sul lavoro. E a Napoli, unico evento in Italia, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II e l'Associazione Europea per la Prevenzione, con la collaborazione di INAIL ed altre organizzazioni, hanno organizzato per venerdì e sabato, presso il nuovo Policlinico di Napoli, l'HSE Symposium. Ne parliamo con i nostri ospiti, che sono il Professore Umberto Carbone del Dipartimento di Sanità Pubblica e l'ingegnere Vincenzo Fuccilo, che è il Presidente dell'Associazione Europea di Prevenzione. Allora, Professor Carbone, innanzitutto quali sono gli obiettivi di questo simposio? Questo simposio nasce con lo scopo, e si ripropone per il secondo anno, con lo scopo di mettere insieme tutte le professionalità che si occupano e che devono gestire il problema della sicurezza. Infatti l'elemento, il momento caratterizzante sarà proprio una tavola rotonda alla quale partecipano non solo le figure tecniche che devono gestire, ma anche abbiamo voluto che siano presenti i politici, coloro ai quali noi sottoporremo una proposta innovativa che consentirà di fare dei passi avanti nell'ambito della sicurezza. Soprattutto ricordiamo con l'ingegnere Vincenzo Fuccilo che sono tanti i problemi quando parliamo di prevenzione e di sicurezza sul lavoro oggi in Campania. I problemi sono tanti in Campania, nel resto d'Italia e anche nel resto d'Europa in realtà. Da questo punto di vista purtroppo le morti sul lavoro non sono geolocalizzate, sono diffuse equamente ovunque. Quello che noi riteniamo che sia necessario fare è proprio quello, cioè unirci tutti insieme per riuscire a diffondere una cultura della sicurezza, una cultura della prevenzione diversa. Per questo noi in questo evento col simposo abbiamo coinvolto 15 atenei in giro per l'Italia, abbiamo coinvolto politica, abbiamo coinvolto istituzioni, organi di vigilanza, controllo, allo scopo di riuscire tutti insieme a proporre delle soluzioni concrete da portare avanti per risolvere i problemi. Proporre agli organi preposti, lei diceva prima, professor Carbone. Proporre agli organi preposti perché usciremo proprio con una bozza di proposta per modificare soprattutto gli aspetti che riguardano l'approccio formativo, perché uno dei problemi fondamentali è proprio la difficoltà nella formazione. Per chiudere, ingerire il fungillo velocemente, quali sono proprio i nervi scoperti in Campania su questo tema? I nervi scoperti in Campania riguardano principalmente due grandi cose. La prima è la formazione degli operatori del settore, dei lavoratori, dei datori di lavoro e anche degli organismi di controllo. Il secondo è proprio una carenza di sorveglianza del territorio, anche un'inefficienza di questo tipo di sorveglianza. Allora, vi ringraziamo appuntamento venerdì e sabato al nuovo Policlico per questo importante simposio.